Buongiorno a tutti, vogliamo con questo video presentarvi la sede di Varese del corso di infermieristica. Il nostro polo universitario collabora con l'azienda SST Settelaghi per il tirocinio e l'esercitazione in ospedale. Questa azienda è formata da tre presidi, presidio di Varese, presidio di Verbano e presidio di Tradate. Ecco qui la sede di Varese. Come potete vedere da questa mappa, la nostra università è formata da numerosi padiglioni. Sulla destra si vede il padiglione Montegeneroso, con a fianco un ampio posteggio e di fronte il bar, dove potrete fare un'ottima colazione o pranzare. Troviamo poi il padiglione Bassani e a pochi minuti a piedi il padiglione Antonini e Morselli. Proseguendo il cammino e raggiungendo la parte sinistra della mappa, potrete vedere il padiglione Seppilli. Oltre ai padiglioni con le aule, però, potrete vedere segnalata in basso a sinistra la nostra biblioteca. A fianco ad essa c'è il nuovo collegio Cattaneo, con camere singole e un ampio parcheggio usufruibile da tutti gli studenti. Poco distante abbiamo il CUS, Centro Universitario Sportivo, che offre diverse attività per tutto il mondo universitario, ma non solo. In questa slide potrete osservare i principali padiglioni in cui facciamo lezione. Il padiglione che ci rappresenta di più è l'Antonini, sede delle professioni sanitarie, in cui risiedono anche gli uffici della segreteria e dei docenti tutor. Ogni padiglione è generalmente composto da aule, sale studio e sale ristoro. Ora vi daremo qualche informazione sulle attività previste nel nostro corso di laurea. Nei tre anni universitari non assisterete solo a lezioni frontali teoriche, ma ci saranno anche attività pratiche di vario tipo e che prenderanno di nomi diversi. Queste attività sono dei laboratori dove la teoria si unisce alla pratica e dove avrete la possibilità di imparare, grazie alle nostre aule esercitazioni che si trovano sia in università che presso l'ospedale di circolo, numerose procedure, da quelle che rappresentano la base dell'assistenza infermeristica a quelle più complesse. Come vedete abbiamo messo alcune foto, le più rappresentative di ciò che avrete la possibilità di fare in questo corso. Nella prima foto vediamo la rilevazione dei parametri vitali, attività del primo anno fondamentale nella valutazione del paziente. Vediamo poi il prelievo di sangue venoso, anch'essa attività del primo anno, e infine il posizionamento casco C-PAP, attività invece del secondo anno. In questa attività sarete proprio voi a scendere in campo ad essere i veri propri protagonisti. Continuiamo con altre attività pratiche come la mobilizzazione della persona a letto, importante per evitare i danni nel muovere la persona e per prevenire le lesioni da pressione e da attrezione, il posizionamento del catetere vescicale, procedura che deve essere fatta con la preparazione di un campo sterile, e troviamo anche la foto di una nostra compagna prima di assistere ai reparti più specifici per il posizionamento di cateteri venosi centrali, al fine di infondere ad esempio nutrizioni parenterali, farmaci o liquidi in maggior quantità. Queste sono invece le possibili sedi di tirancinio. Questa attività è presente in ciascun anno di corso, quindi avete la possibilità di frequentare sia reparti diversi, ma anche ambiti lavorativi molto differenti come può essere quello ospedaliero, ambulatoriale, riabilitativo, ma anche case di degenza. Di fatto il maggior quantitativo di ore di tirancinio viene svolto nell'ospedale di Circolo, a Varese, dove hanno sede anche le aule esercitazioni, ma dove vengono svolte tutte quelle attività di avviamento al tirancinio, le esercitazioni e le attività pratiche. Altre destinazioni sono l'ospedale di Radate, di Cettiglio, l'ospedale di Angera, ma ancora l'ospedale di Castellanza, quindi la Materdomini, l'ospedale di Luino o l'ospedale del Ponte, che è una sede specializzata nell'ambito materno-infantile. Come avete potuto vedere ed ascoltare sin qui, la nostra sede formativa è un polo di formazione importante per i futuri infermieri. Speriamo che questo breve video vi sia piaciuto e se avete qualche domanda avrete l'occasione di porcela direttamente attraverso la piattaforma Microsoft Teams, dove saremo lieti di incontrarvi e rispondervi personalmente. Vorremmo infine salutarvi con una frase di Florence Nightingale, infermiera britannica, nota anche come la signora con la lanterna, considerata la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna.